Perchè? Perchè questa cosa? Perchè Danella, Emiliano e cosa? Perchè questa cosa? Lo so io perché io? Perchè la scatola, posso un'azienda? Parroppo, mo la stai schiacciando! Alcala, non c'è la mia esperienza ma io come ripaga? Un schiaffo? Calcala non ti passa che pensai che diceva? In genna, in tre spetta in ci va! In tre spetta! In ciniva! In tre spetta in ci va! 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 E noi vada questa persona da la paura a te che è, manca la mia unico e mi dico di più, che vada con te la mia gente… Va bene arrivare! Maplanamente non dovrebbe andare a passare, là è sotto. 000